Non c'è pace per il dragaggio a Pescara, un incidente che non ha causato fortunatamente conseguenze per le persone. Questa mattina si è verificato al porto canale durante i lavori di dragaggio del fiume. Per cause ancora in corso di accertamento si è spezzato il braccio della gru della draga che è finito in acqua. A causa del problema i lavori sono stati sospesi e la draga è rientrata nella banchina sud del porto canale. Sull'accaduto sono in corso accertamenti della guardia costiera che ha circoscritto l'aria della gru con nastro rosso. La draga comunque è potuta tornare all'ormeggio in banchina, nessun componente del pontone è rimasto coinvolto. Bocche cucite da parte dell'equipaggio, per riprendere i lavori potrebbe volerci anche più di un mese. La causa, secondo prime indiscrezioni, sembrerebbe il fondale argilloso che può aver fatto effetto ventosa sulla benna e non rilasciando il materiale ha causato il cedimento. Al momento pare non si tratti di un problema di manutenzione strutturale ma come detto l'ultima parola va alla capitaneria e al mese. I pescatori sono in mare visto che ieri a causa del brutto tempo non sono potuti uscire, a loro ritorno gli aspetterà questa ulteriore amara sorpresa. Unica consolazione che per un caso fortunato nessun componente del pontone è rimasto ferito e questo è già morto.